potere pelato buonasera salve a tutti yeee senti che facciamo riesco a farlo sparire questo in qualche modo no? no sì? bello? yeee nuovo set ancora più bello ogni giorno meglio del precedente incredibile, oh bravo normalmente sono da questo lato sì cioè nel senso non è per niente ma è per questo sì sono giusto nel senso che funziono e non sono molto a fuoco l'unica cosa però c'ho sempre la telecamera un po' troppo vicina in realtà dovrei spostarla un po' indietro buonasera buonasera ah bellissimo, vero? che bello, ogni giorno più bello del precedente incredibile si migliora di giorno in giorno tra l'altro siete sopra in realtà siete sopra il coso per cui non si vede ma questo è è Optimus Prime che non è molto Marvel ma neanche questo è molto Marvel bello mi piace molto un lavoro complicato di o anche guardate ho anche migliorato il set a livello di lettere adesso ci ho messo qui le robe di salda per essere un po' più fighe è provvisorio sì è per l'estate se è testivo domani un mio amico fa la maratona 24 ore se mi puoi fare il ride se mi ricordo sì se me lo ricordi sì se non me lo ricordi non mi ricorderò mai lo sai che nel senso mi conosci non mi ricorderai di mangiare se non fosse che ho fame costantemente ciao a tutti ciao Wolf ho il torcicollo attenzione attenzione a cosa a battaglione alla mia invidia vedendo i tuoi fumetti cresce ogni volta che vedo i tuoi fumetti ah no i miei video ciao Umberto ho cambiato cam? no la cam è sempre quella ho cambiato studio quelle cornici nero-rosse sono di Ikea la cornice sì la parte rossa no è un cartoncino non ho cambiato cam la cam è sempre quella può essere diverso il colore perché è diversa la luce cam e rai ho cambiato cam e rai effettivamente e va bene tutto molto diverso lo so non è un effetto visigheografico certo ma io ho decine di studio studio ovunque in tutta Milano figa camera eh lo so è mia in realtà sembra molto più figa in realtà sembra un magazzino come avevo già fatto notare come potrei far notare anche solo facendo così dalla camera magazzino ma che bello ma che bello transformers more than mid the ice bella la camera panoramica mi piace la camera panoramica non riesci a mettere a fuoco però a parte quella metti a fuoco non vuole non mi piace no ha deciso che non metterla più a fuoco ricorderei alla gente la cosa principale è che io non leggo manga che schifo in manga funziona il condizionatore? l'altro giorno no ho cambiato studio proprio perché boh non saprei questa cosa Dario è successa questa cosa non ne ho notizie aspetta potrebbe anche essere non ho idea di cosa ci sia attorno a me una volta che io rientro in casa non so più niente però deve essere figo almeno c'è fresco Regioni vediamo news Regioni Lombardia Sala si recupereranno il Salva Milano agiremo sul Puget Cortei del Conti Aler Milano due imprenditori vicino a Cosa Nostra puntavano a opere Milano-Cortina Comitati contro gli stadi Milan e Inter Blackout al Pala Giustizia c'è sette persone bloccate in ascensore per un'ora Ibrahim figlio di Ibrahim firma un contatto con il Milan incendio nell'appartamento di una palazzina Milano otto feriti alla statale oltre 12 milioni dell'inizio universitaria proprio non c'è questa notizia Dario dove cazzo l'hai noto trovata questa notizia del Senato del del lago non c'è da nessuna parte era oggi l'avvene l'inizio sì 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 era proprio oggi parte Iter fine vita cappato chiede tempi certi penna ridotta in appello ormai sono Tenet sono meglio di Tenet ma con la cronaca milanese potrei trasformare il canale in un canale di cronaca milanese che ne dite oggi a Milano oggi da Milano è Milano today cos'è sta roba si rompe un tubo dell'acqua allegate diverse strade in centro a Milano che cani in via Fontana è martedì però ma io mi chiedo ma io spero che quell'azienda debba ripagare tutto ma io non lo so ci hanno perfolato un tubo da 45 centimetri cioè un tubo largo così cioè immaginate e in tilt caso allagamento ho anche due cabine elettriche giustamente ma io non lo so ma tu pensa ti hai le cantine ti si allagano le cantine perché dei coglioni bucano i tubi dell'acqua ma io veramente spero che questa azienda non possa mai più lavorare nel mondo perché acqua molto particolare vabbè mavone perché c'è la terra dentro sai com'è sai ci sono i giardinetti ci va l'acqua sopra poi non è altissima eh per carità però però ti alzo ti arriva giusto giusto dove la macchina ti entra nella macchina sì grazie però non c'è il link che palle devo cercare il link vero stupida stupida panini via fontana ecco lo mi ha azzeccato effettivamente ciao violetta dove era di bello guardi le palle di plastica oh ok magari adesso è esaurito eh dopo che gli ho fatto il mio endorsement su youtube cioè su twitch acquista la tua copia no è disponibile ancora posso ancora acquistarlo che strano ragazzi ma non dovrebbe qualcuno che mi aveva detto che si esaurisce subito poi vi ribadisco magari si esaurisce anche ma hai letto la polemica di genshin impact no claim qual è la polemica di genshin impact sessualizza i nostri figli non lo so ma anche un po' più che fino a domani secondo me sono 600 copie ragazzi 680 non sono 100 copie di una roba poi rara o figa io ribadisco il vero problema di questa cosa è che non è figa cioè il vero problema di sta roba è che non è figa sì samuele con estrema calma c'hai fretta non è figa è estate è estate anche per me c'ho caldo c'ho da fare le robe però vedi la porno lusso di sin city per quanto inutile era davvero porno lusso questa non lo è cioè il vero problema di sta roba è che è una versione di anno 1 con la copertina rossa questo è in formato comic book con la copertina con i cosini non lo so come sono fatti è proprio un'iniziativa minchia è questo il punto cioè è questo il fatto ma nessuna samuele che cazzo devi regalarla questa a che prova regalare sta roba non è allora sin city aveva senso regalarla in teoria perché è una roba un po' più di nicchia un po' più particolare e che magari se la gente sa che esiste se la compra anno 1 l'hanno stampato 5 volte nell'ultimo da maggio lo ribadisco 5 questa è la sesta non ce n'è bisogno no è la quinta forse no è la sesta no è la quinta è la quinta ce n'è no comprato 18 copie ne ho comprata hai fatto bene baseball però almeno 9 non so perché è proprio 9 però come le vite dei gatti ma qual è la polemica su genshin impact quindi sapete che se cerco genshin impact polemica non mi viene fuori mi incuriosiva niente non lo sapremo mai vabbè pazienza salutare anche Milano Notizie qui c'è Violetta a vetrana in realtà volevo dire ah sì una cosa che potremmo guardare in realtà c'è prima di buttarci nell'allegro mondo di tutto il resto in teoria oggi dovrebbe aprirsi questo qua non i biglietti non i biglietti no la roba di Armano del kickstarter in bio tutto in bio perché c'è link 3 ma no non c'è siete dei cani no cosa ho detto ah no devo aprire ok sono confuso sì lo so Samuele ne abbiamo già parlato che ne è uscito non l'ho guardato nintenbox non puoi spastare link io non c'ero e non mi fai un canto ma scusami doveva essere oggi non è oggi oggi è il 18 non doveva partire oggi non è partito un cazzo mi ricordavo male 18 luglio e oggi è il 18 luglio su anime click dimmi anche più o meno dove se non si se si vede raga uno che è VIP mi puoi mandare il link grazie Gansin Impact e altri giochi di miei accusati di whitewashing eh cos'è il whitewashing scusatemi non è il blackwashing no ah no li fa troppo bianchi divinità africane ma non sono bianchi sono cinesi va bene ma scusatemi quanto è vecchia sta roba Sumeru non è l'ultimo anche Natlan anche Penakui Penakoni dove deve stare con il whitewashing a collaborare con consulenti culturali indigeni giusto ma quello ce l'abbiamo già eh quello di di coso è qua solo che non c'è l'abbiamo già visto che non c'è che in teoria doveva partire oggi ma si sono dimenticati di attivarlo evidentemente comunque no vabbè raga ma se stronzate l'avrà detto qualche americano di merda cioè me l'immagino i soliti americani di merda che si preoccupano della rappresentazione culturale di gente che non sono loro un po' ma lo sapete come sono fatti gli americani no gli americani sono gli stessi che accusarono l'italia di non avere all'interno dei tipo cose di non mi ricordo quale azienda italiana di moda che non c'era personale di colore all'interno del gruppo dirigente in Italia ciao retro raga in Italia purtroppo soprattutto ad alti livelli trovare persone che siano integrate di colore o comunque di etnia non europea in Italia e ma siamo di colore quando fa comodo Ivan non quando devi romper i maroni inevitabilmente se il coso è italiano è difficile che ci siano tanti italiani di colore oggi ce ne sono di più ma sono comunque una estrema piccolissima minoranza per il semplice fatto che noi non avevamo gli schiavi ad esempio ma spiegaglielo agli americani questa piccolezza che noi non importavamo manodopera schiavizzata dall'Africa lo facciamo adesso no non sono schiavi sono semplicemente pagati come se fossero si che non c'era il doppiatore di colore a doppiare gli americani gli attori di colore certo e mi sembra corretto fra poco saremo noi la minoranza no tranquillo crada la tua amica Giorgia metterà un freno a questa incremento di persone che in realtà la maggior parte di quelli che arrivano qua di colore non vogliono rimanere qua per cui no è poco probabile che diventeranno la minoranza che diventeremo la minoranza al massimo si spopolerà il paese perché generalmente se ne vogliono andare in posti un po' più progrediti dove trovano lavoro più che altro dove non devono lavorare a 4 euro all'ora come uno youtuber insomma ora vivono nelle riserve chi gli italiani riserva italiana ok comunque a parte questo vedo delle cose di final fantasy 16 perché qua ho il portatile si vede perché stiamo parlando degli indiani scusate come ci siamo arrivati quelli che bevono il cappuccino a tutte le ore tipo me quindi la cosa che non posso bermi il cappuccino quando cazzo mi pare non l'ho mai capita potrò potrò mangiarmi il cappuccino quando straminchia mi pare bermi il cappuccino ti vedrei bene in politica anch'io molto bene voglio più cappuccino subito wolf corro ad ascoltare questo tizio chiamato chef giuntioli che non so chi sia e no ci sono gli orari giusto allora ora parliamo di cose serie cose serie bellissime come la mia mano l'unico vero problema qua di questo set è che la scrivania è piccola mi si vede pezzi di me non mi piace scrivania piccola così va meglio dovrei mettere un altro tavolino extra di fianco in cui appoggiare i sacchetti oppure li appoggio per terra molto più semplice però no è scomodo in realtà potrei spostarmi altrimenti dove c'è il letto che fatica a vivere è tutto molto complicato no in realtà in questo momento non c'è niente sopra sulla scrivania vedi è molto pulita c'è c'è solo la tastiera c'è una gomma se vuoi però posso mettere qui sull'altro tavolino non c'è niente in questo momento vedi non c'è niente nemmeno all'interno di questi dischi dei monitor non c'è proprio niente ovviamente tutta la roba che vedete è la roba che c'era prima di là non è che sia nuova nel senso l'ho solo spostata l'unica cosa che non ho spostato è la libreria che è qua anche la luce non è la luce è diversa vedete è un ombrello con dentro una lampadina non è come me tutto doppio no non ho due microfoni due telecamere quattro pc quattro mon no c'è due monitor ma gli avrebbero erano di là anche perché in camera non ci sarebbe niente io preferisco che non ci sia un cazzo in camera in realtà perché così dormo in modo questa notte mentre dormivo sentivo un rumore che non so da dove arrivava perché avevo spento tutto ma stanotte spengo anche le ciabatte sentivo un vago che non so quale cazzo di elettrodomestico fosse qui dentro potrebbe essere qualsiasi cosa forse era la playstation sono molto irritato da questa cosa cosa ne pensi di chi imbusta i fumetti e li tiene come veliqui che è un cretino spesso a meno che il fumetto non sia particolarmente di valore non ha senso e tra l'altro anche se è particolarmente di valore non ha così tanto senso perché non è così certo che le bustine ne preservino il valore erano i fumetti non credo comunque partiamo con i fumetti partiamo con le cose belle e con un manga protetto dall'invecchiamento grazie a una busta è il manga di Kirio non vogliamo che Kirio esca dal manga e quindi è chiuso dentro è qua Kirio lo vedete non so perché questo è imbustato c'è dentro qualcosa di regalo non credo c'era la busta cioè c'era la ocello fan sì ma perché la gente è scema il sistema ribadisco ma in realtà non è un floppone in Giappone è arrivato tipo al volume 15 sì ha chiuso ma è tipo al volume 15 non è così floppone non ha chiuso dopo tre numeri non c'è una motivazione per cui fosse incelofanato incelofanato ah no c'è una preziosissima cartolina raga basta che palle le battute sui fumetti sono divertenti per cinque minuti dopo diventano una rottura di maroni questa è l'anziana con la faccia un po' da culo bella no comunque boh vediamo non mi dispiace ma è particolare c'è della gente con delle seghe delle mazze ferrate delle cose in mano perché hai scritto le postertine a caso non è di coso di planet non è toshokan ma sì ma lei è molto brava è molto particolare ho messo metterli qua i fumetti bene poi abbiamo la cartolina ma passiamo a cose belle cose belle davvero cose belle come x force la migliore serie del momento questo è l'ultimo numero in teoria vero? sì ultimo numero di x force come finirà questa storia bellissima con il nuovo bestia sconfiggerai il vecchio bestia e soprattutto perché hanno permesso questa stronzata e questa porcata non lo so però va bene bestia contro bestia sono più bestia di te ma e poi ci sono anche le sentinelle che bello che bello bestia che roba esatto è una cosa pazzesca comunque poi abbiamo un sacco di altre cose belle vediamo una aaa un ritorno improrogabile è tornato blood blue lock e fra poco arriva anche il film non siete emozionati ma anche questo è incelofanato perché c'è una preview di quello che non ho comprato e quindi sono contento perché così possiamo anche dare un'occhiata a ogni magari lo leggo e mi piace e lo compro raccolta plastica c'è scritto che culo eh va che bello questo albetto spillatino mignon ah perché è al cinema adesso non lo sapevo non vado a vederlo è una ragazza in una barra no ma non vado a vederlo ma fa un cazzo se mi invita tra l'altro mi sembra molto molto poco un film da cinema a vedere il trailer però troppa plastica il mondo manga uccide i delfini sono d'accordo ma i disegni non sono neanche brutti solo che devo dire che non me ne frega veramente una mazza della trama cioè lei e la tizia devono poi ci sono i sicari che magari è anche divertente però troppi battle ah beh questo è bluelock c'è l'anziano si grande ora ho fame inevitabile non lo leggo da un sacco di numeri bluelock in realtà non disegna col pc l'autore grazie di questa notizia cara ne sono felice sono felicissimo che lui disegni con le mantite mantite bene bello ma soprattutto bello questo poi vediamo cos'altro abbiamo di fantastico si si solo per quello pep infatti non lo leggo più di land dog orrore tra i ghiacci l'albo bis preso questa estate l'ho preso anche in un'edicola diversa perché la metropolitana in teoria era chiusa e non so se l'edicola era aperta non sono andato a guardare l'ho preso in un'altra edicola di land dog la cosa plagio se volete faccio la stessa critica che ha fatto la michael davis e luca ma venite un po' più vicini voglio parlarvi di questo numero di land dog perché in questo numero di land dog hanno inizio i what if di bonelli bonelli ha dichiarato che d'ora in poi tutti i numeri bis di land dog saranno what if what if come il mondo dei morti però il mondo dei morti l'avete fermato e perché invece questo no frega cazzi personalmente frega cazzi sarà che non mi frega cazzi del mondo dei morti ma come ha detto luca luca era incazzatissimo ha detto che non andava più avanti da dove ti arriva questa notizia sfufo io ho visto il video di luca dj che mi tiene informato sui su tutto quello che avviene in bonelli dammi info su questa cosa se hai info diverse perché il sospetto ah ok no no guarda che nell'ultimo numero non c'era pare che non si sa esattamente cosa sia successo ma potrebbe aver litigato Boselli con ci sia bilotta scusate eh ma perché non può parlare che cazzo ci fa bilotta da Dario Moccia proprio chiunque ormai ma soprattutto io mi immagino il pubblico di Dario Moccia è con bilotta lì scusatemi umberto siamo a letto umberta grazie George Garland per il sub da sei mesi evviva per forza cioè io mi immagino la chat di Dario Moccia in un momento del genere no l'ultimo non era così Peppo mi spiace dirtelo ma no l'ultimo non era così e per forza vengono rimossi durante le interviste cioè vengono proprio bloccati fisicamente cioè il bot che impedisce di scrivere per forza quindi nessuno scrive niente nella sua chat questo vuoi dire perché generalmente io quando guardo la chat di Dario questa cosa qua cioè una serie di scimmie che scrivono cose boh non lo so non riesco a capire veramente il concetto ma va bene comunque questo sembra molto figo molto particolare di Silvia Califano ai disegni Bruno N ai testi ideazione sprovisione edizione sclavi io l'ho preso letteralmente oggi ciao vi ricordo che se avete la sub con il prime va rinnovata ogni mese quindi rinnovate la vostra sub con il prime e questo canale forse non chiuderà a settembre e ma proseguiamo con i manga c'è c'è differenza fra non c'è non c'è scienza nelle chat e la chat è letteralmente composta da dei gibboni che ti si tirano addosso la merda ma ok ho ancora quattro giorni prima del rinnovo sì ma se hai ancora la sub se hai la sub attiva non è un problema è solo che le sub continuano a calare nonostante che ci siano stati un po' di regali siamo in costante declino delle sub quindi sono un po' depresso ma Call Only Death un manga divertente ma non troppo su terrificanti omicidi grazie a Keita la 365 per la sub evviva e c'è un uomo pelato che forse è morto ma mi sa che non ho letto il terzo comunque un giallo inquietante con personaggi psicopatici e segreti terribili fra i vari personaggi molto molto figo devo dire ormai mi stava piacendo ma mi piace molto dai che arriva Paolo82 che ti droppa 200 euro di roba in fumetteria ma magari non avevo ordinato in fumetteria quindi non potrò andare avanti per ora non credo sia difficile da trovare come e mi spiace samuel nessuno è perfetto però smettila di fare whitewashing a questo canale questo lo sta prendendo la mia ragazza la presa di impulso i primi tre infierno non ho ancora letto peggio di me sta diventando brava così si fa tra l'altro la ragazza di qualcuno oggi mi ha scritto vomito in un commento su instagram ve l'ho postato sul gruppo sub in realtà credo che scrivere al suo ragazzo mentre parlavano di cose perché il suo ragazzo le aveva mandato la mia storia però l'ha scritto a me oppure no si è solo giustificata in modo assurdo infatti mi ha scritto vomito quando ho fatto vedere allora un po' era comprensibile perché la camera fa un po' schifo però proprio scrivermi vomito mi sembrava un po' troppo era il postis era la storia del whitewashing quando tipo non lo so fanno che cazzo ne so ad esempio quando fanno le robe degli anime ci mettono i personaggi bianchi e allora whitewashing perché come ben sapete negli anime i personaggi sono giapponesi e negli anime non sembrano soprattutto occidentali quando sono tutti alti con la pelle chiarissima gli occhi giganti i capelli biondi o verdi o rosa però giustamente se tu fai la versione live action devi prendere un giapponese con il capello bassino con i capelli neri gli occhi estremamente a mandorla il più a mandorla possibile e dire ehi forse anche i giapponesi se lo fanno da solo tipo i live action Disney non credo che facciano i live action Disney facciano particolarmente whitewashing massimo loro fanno il contrario cioè siccome c'è poca rappresentazione ce ne mettono fin troppa però sì però capisci che la sirenetta non è un personale cioè chi se ne fotte della sirenetta tipo quando disegna esatto crada come Nick Fury bianco o come non lo so una ninja o come ad esempio Kitty Pryde che fa lei è ebrea sì però si veste da ninja quindi sta facendo appropriamento culturale come si permette Kitty Pryde di fare appropriamento culturale eh eh è forse giapponese no si chiama Katrin Pryde come si permette vabbè abbiamo Philnoto abbiamo Magic grazie Navi 1970 per la sub di 5 mesi evviva quindi devo ricordarvelo davvero di sabbarvi col Prime sabbatevi con il Prime il Prime è bello anche se mi danno sempre meno soldi però meglio meno soldi di zero soldi come dura la vita durissima chissà come avrà i capelli Giubilì in questo episodio ad esempio nel numero precedente c'era Giubilì con le treccine appropriamento culturale delle treccine no qui non ce le ha più le treccine parrebbe Hulk no adesso devo meno devo tipo due euro un po' di gente ha comprato si dice per forza è appremento culturale per i toscani ma dato che hai risaputo che i toscani non hanno una cultura propria non lo è no sto scherzando lo so che non è vero anzi la culla della cultura italiana la toscana poi purtroppo con gli anni sono un po' decaduti ma mai ero saldo negativo perché il mese scorso qualcuno ha comprato quattro omnibus di Hellboy e poi ne ha restituiti tre quindi dato che è finito il mese quelli finiscono nel mese prima quando è iniziato il mese nuovo li ha restituiti quindi sono andati in saldo negativo invece di togliere da quello del mese prima topissimo grandi e probabilmente magari li ha anche riordinati però probabilmente se tu fai il cambio loro comunque te li tolgono cioè nel senso che dovresti farti fare rimborsi e poi rifarlo se vuoi riusare il codice immagino se tu invece fai tipo oppure magari non li hai riordinati e basta non ho idea sinceramente non lo so però credo proprio che se no però se ti li fai rimandare non ha senso cioè non c'è un esborso economico non lo so non ho idea però non lo so in ogni caso non vedo un euro e cosa abbiamo abbiamo questo abbiamo la luna ed acciaio 4 credo di dover leggere ancora il 2 il 3 però mi è piaciuto il primo molto particolare la copertina in cui usa questi due stili di disegno completamente diversi osa ma osa di osa di oddio sono finiti nel futuro no era come uno sprazzo di visione del futuro ok ma vede il futuro ok oh la torre di tokyo la tokyo tower ma che ne so wolfion ma ce l'hai anche tu google perché devo farlo io mentre sfoglio il fumetto guarda i tavoli a colori però un po' duro eh era un cosa dici alla toscana oh dai non lo so non lo so dire non lo so fare troppo complicato serve mattia mattia ci dici ma cosa dici in toscano oh ahi bello anche anche non hanno proprio nessun tipo di consonanti toscani hanno solo l'h e le vocali il che tu dici anche anche la toscana ha proprio rovinato questo paese c'è poco da fa comunque cos'altro abbiamo di strabello strabello lo sento questo è bellissimo sento la bellezza provenire dalla carta non so cos'è wow x-men forever in questo numero non solo finisce the trial of magnet no non the trial non solo finisce the resurrection of magneto ma c'è anche x-men forever una nuova fantastica serie scritta non lo so da gillen non mi ricordo da kieron gillen con i disegni con i disegni di luca maresca e i colori di federico bla federico bla immaginate il povero federico a scuola all'elementare o dalle elementare fino al liceo in cui la gente lo prendeva per il cuore federico bla 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 povero federico sempre che sia italiano ovviamente non lo so ah comunque ho visto che marco rizzo sarà ospite alla conferenza alla fiera del fumetto che non è una fiera del fumetto credo a lugano quindi propongo tour del canale tutti a lugano andiamo tutti a lugano al lugano comics a metà ottobre segnatevelo luganomics o una roba del genere anche dopo che cosa e dopo capatina al bar oceano non so cosa sia è una roba dove c'è prostituzione non per altro ma perché svizzera ai bar penso a cose così blea preso in giro dopo le superiori ah può essere abbiamo magnito contro magnito che ritrova indovino alla fine poi riporta in vita magnito ma è il magnito cattivo di una volta sono un magnito cattivo sono cattivo come i personaggi di under ninja che non si capisce il bar oceano sarebbe la fumetteria della figa questo è il primo di deadpool no è il terzo di x-men forever questa è la pubblicità ci vuole hai ragione serve un magnito di gazza gaznito a lugano invece il proletariato nostrano capito c'erebbe un sacco anche magnito cambogiano effettivamente piacerebbe molto anche alla dirigenza disney secondo me ma potrebbero proprio non fare un nuovo magnito questo lo bagniamo di base di base se volete entrare in questo canale non è questo il modo tanto se c'è un coso creato 29 secondi fa ma non me lo fa mettere davanti la finestra sta solo in questo pezzettino tra l'altro io ribadisco ragazzi è inutile che create nuovi account per entrare sul canale perché non potete scrivere cioè se non hai l'account verificato non scrivi in questo canale per cui a meno che non sia stato creato da almeno tot tempo perché tu puoi farlo puoi loggare ma non puoi scrivere sì grazie a sfufu ma non ero così interessato anzi lo banno anche per lo segnalo anche per furto d'identità segnala nome utente avanti non c'è furto d'identità ha deriso un trauma bello ha deriso un trauma un'unità nel nick come può uno cioè se sto segnalando il nome perché c'è tipo violazione ip violazione ip vabbè non lo segnalo pazienza non si fotte con i pelati è vero tra l'altro a parte io ho problemi seri non lui che crea account nuovi in 5 secondi non potendo peraltro scrivere perché io ribadisco questa cosa ora non lo banno ma tanto non può scrivere fai il sondaggio segnaliamo noi fai il sondaggio io sono rimasto sottomontizzato dal video sui gradati di capcomics non l'ho guardato il video è che allora non voglio litigare con emma ma so che la sua allora io non ho visto quel video non so come è fatto spero che non si sia fatto prendere dalla sua dal fanboismo perché un video sui gradati andrebbe fatto con una certa secondo me analisi del sistema cioè dovresti vedere quanto quanto ha senso guardare un fumetto perché ha senso guardare un fumetto no Samuele le segnalazioni si fanno in base alle cose reali non in base a quello che scegliamo di segnalare perché se no si chiama bullismo comunque sarà moto topo comunque sarà moto agio lì moto agio potrebbe essere il nuovo nuke di moto schizzo comunque un bel manga sui ninja del nuovo millennio che fanno cose nel nuovo millennio strano poi cos'altro abbiamo di strabello strabello fatemi palpare un fumetto è ciccione non so cos'è oh è wolverine cosa c'è dietro oh le variant ma ancora non se ne conoscono alcune la prossima devo comprarla che palle questa mi serve 8 agosto 29 agosto quindi dall'8 agosto al 29 agosto in teoria non esce niente vabbè non è detto che settimana saltano in panini cioè tipo quella del 16 sicuramente oddio magari no magari saltano però no se no a uscire non lo so aspettate solo curiosità perché tecnicamente ma è sempre lui sì è proprio stupido mi sa sì non l'ha capita questa cosa vabbè è geniale è un frame delle live settimanali centrale di agosto dato che molti seditori saltano no penso che le farò alla fine se sono qua e non ho niente da fare le faccio si chiacchiera si vedono cose non lo so vediamo stavo dicendo su agosto perché se effettivamente il 13 escerà l'8 agosto che è giovedì poi quello dopo è il 15 però non credo che uscirà roba il 15 quindi salteranno 15 e 22 oppure saltano il 15 il 22 il 29 non lo so boh non ho idea qualcuno mi ha detto che a j-pop salta 3 settimane nell'agosto ci sta eh per carità 3 sono un po' tante però il panino ne salterà un paio Umberto non vai in ferie ma io sono sempre in ferie non ho un lavoro vero comunque dicevamo è Wolverine la terza parte della Sabritut Wars superiamo la metà della Sabritut Wars abbiamo cose che cos'è non lo sto leggendo però che cosa inquietante c'è un corpo senza testa di Wolverine forse che va in giro alle cose no sembra Sabritut più che Wolverine ah sono corpi di Sabritut che bello senza testa però che cosa inquietante mamma mia comunque no quest'anno non faccio vacanze mi sa sono povero andrò a Lucca da Mattia forse a Lucca comics questo lo aspettavo questo mi stimolava mi ha molto stimolato il primo numero molto carino noi maschi agiamo con il Pipo giusto quindi stai presumendo la loro sessualità giusto ragazzi della Sab frats 97 ben sabbato sono confuso da questa domanda Nintenbox devo essere sincero ma il tuo lavoro eventuale eventualmente quale sarebbe cioè se non fossi preso al 100% qual era il tuo lavoro precedente sono confuso cioè vuoi sapere cosa facevo il fotografo ho fatto tante cose nella mia vita in questo momento faccio il content creator solo che non è un lavoro vero perché non guadagni abbastanza però non faccio streaming sono un content creator faccio anche streaming comunque ero fatto il fotografo ho fatto lavoravo nei servizi clienti ho fatto interviste di mercato come supervisore di sala in una bella azienda di indagine di mercato che poi è fallita no che poi hanno chiuso banalmente il 7 agosto esce il motif di Paperino Wolverine lo compri no perché è su Topolino bellissimo Jumbojo Sister atmosfere molto rilassanti sì 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 molto carino Jumbojo Sister primo volume mi è piaciuto un sacco e non vedo l'ora di leggermi anche questo poi è molto anche particolare il fatto di fargli questa grafica da libro giapponese sotto la sovracoperta molto stimolante stanno insozzando Topolino più che altro secondo me non è la giusta collocazione Topolino per quelle storie però facciano un po' come vogliono ma non per altro ma perché le fai in volumetto e le vendi forse per mandarli in edicola tanto secondo me prima o poi in formato comic book le fanno e sono stupidi a non farle perché venderebbero boh ma è quello non è intanto perché non è il formato con cui sono nati quindi Wolverine non è proprio una storia americana visto che gli autori sono tutti italiani ok dov'è uscita Calvin Hoy scusami sì penso di sì che lo sia flippa anche quella hanno già detto sull'editoriale che li ripubblicano di Topolino l'hanno detto comunque wow finalmente dopo due mesi il secondo fantastico appassionante episodio di Avengers il crepuscolo o Avengers Twilight pubblicato ovviamente a ritmo bimestrale su Avengers perché è una solita idea di merda di Panini ma ci tengo a dire che Panini non ha mai idea di merda non so se avete visto la mia ultima storia su Instagram quella in cui tra l'altro ho non l'ho scritto il suo nome ma l'ho citato sto parlando di questa quella in cui faccio vedere com'è la versione Panini che hanno fatto vedere e com'è una versione stessa non di Panini ora non mi piace tanto neanche qua perché non è venuta molto bene però posso dire che non fa schifo quanto quella Panini che comunque non l'avrei usata per fargli pubblicità ma che non fa schifo quanto quella Panini posso dirlo? che non è esattamente la stessa cosa farlo vedere così dove qua sembra che non abbia manco il ginocchio e fare vedere invece che comunque non l'avrei usata ma quantomeno qui ha il suo senso poi non è non viene bene perché sta in mezzo alle due pagine è inevitabile ma come cazzo fai a pubblicarlo così questa roba? ma non è questo Oxino io non capisco perché questa roba non riesce a passare ragazzi il problema non è che l'immagine sia così il problema è che una persona pagata per gestire i social di un'azienda e per presentare i prodotti utilizzi questa foto cioè è questo il problema io non devo sapere come la gente non riesca ad arrivarci è imbarazzante è la pagina Instagram di Panini questa è una pubblicità porca puttana e tu non puoi usare questa foto di merda sta roba è no la settimana prossima e si doveva uscire l'hanno rimandato perché doveva uscire tipo a maggio ma questa roba qua non può accadere è imbarazzante e il cretino che mi ha risposto alla fine mi ha risposto e preferisci meno trasparenza allora bastava dire così è una pubblicità se devo farti la pubblicità di un fumetto cosa scelgo le immagini più belle o le immagini più di merda secondo te cioè adesso non è che il fumetto lo devi giudicare da questa immagine ma se io voglio venderlo magari non la faccio vedere così che fa cagare no cioè almeno qua si vede che è tutta l'immagine no raga ma il punto è che allora non la stai vedendo nella sua completezza qua c'è la pagina che gira il problema è che non funziona in foto ma io credo che anche l'immagine completa facesse un po' cagare io non vorrei dire ma è strana l'immagine completa perché guardate che qua più o meno è completa solo che qua è un po' strana la posizione proprio anche sta gamba è proprio strana la posizione in cui l'ha fatta perché qua è completa non manca niente secondo me è che è proprio stranina l'immagine però non la riesce a far vedere recente perché sta in mezzo alle due pagine è inevitabile non è uno spillato e quindi è anche all'inizio tra l'altro sì non dovresti fare un'immagine del genere ma figurati allora questa qua è un'immagine che non c'è nell'originale è un'immagine che probabilmente hanno aggiunto adesso nella reazione nuova perché se noi guardiamo l'originale ho qui il primo numero di questa edizione che purtroppo sono i primi quattro li avessi tutti sarei un po' più contento perché è giusto un po' meglio ah tra l'altro vorrei ricordare eh 18 volumi in formato 13x18 per gustare al meglio lo splendore dei disegni del sensei questo è il 13x18 13x18 non era meglio così eh è questa l'edizione con le statuine ma come ho appena detto sono i primi quattro non era meglio così come dimensione se volevi meglio godere dei disegni del sensei no così come domanda eh vabbè ah pelati fumetti rompiballe perché non dici le cose no bastava farlo in alcuni paesi l'hanno fatto più grande no questa qua io ribadisco la persona che ha fatto questo post la persona che ha fatto questo post non dovrebbe lavorare in questo campo perché è ridicolo cioè tu non puoi intanto scrivere questa cosa qua se la scrivi è una presa per il culo è una presa per il culo perché la gente non è scema uno se la legge se ne rende conto che lo stai perdendo per il culo io non dico che devi scrivere che fa cagare ma non lo scrivere 18 volumi di oltre 300 pagine per gustarvi nella migliore nella migliore che cazzo ne so per gustarvi di nuovo la magnifica serie del Sensei Tetsuara tu non mi puoi puntare su una cosa che non è vera cioè il formato 13x18 è uno dei due formati standard che hanno i Tankobon nel mondo cioè in Giappone non mi dire che hanno scelto questo formato per gustare appieno lo splendore dei disegni perché è una presa in giro allora se fra un anno fa dieci anni facciamo la versione gigante diciamo la versione gigante perché cioè i disegni così sono meno belli perché sono grandi però così ci piace che madonna è proprio una roba tra l'altro fa super ridere perché è extreme edition ma è extreme decade adesso 18 volumi 300 pagine in formato Tankobon e poi ribadisco con quale immagine la valo mandi fuori con questa e infatti tutti i commenti sono su questa roba qua cioè vabbè a parte questo che voleva che la chiamasse lo accutano Ken ma vabbè no non è economica economica è un'altra cosa extreme sì perché l'hanno messo sui tombini ah no è perché è un po' post atomico no e quindi l'hanno fatto così col tombino arrugginito che fa un po' società decaduta dai cazzo la fantasia comunque abbiamo Avengers qui belle disegni molto fighi devo dire non so dove ci porterà questa storia vediamo c'è il nipote di Tony Stark Zoomer i capelli di Vegeta no è Vegetto secondo me però vabbè ahhh c'è donna giganta è cosa è Kamala Khan può essere quante grande è la versione italiana di cosa Vince no non si trova più Pep cioè questa qui la trovi su ebay a prezzi senza senso e comunque ribadisco solo i primi 4 o 5 numeri tipo quante grande è la versione italiana quale 13x18 c'è scritto comunque abbiamo un'altra cosa bellissima per voi il manga più bello che c'è ovvero lo zio non è che è cartonata perché se è cartonata quei due centimetri vanno in cartone bellissima genio fantastico persone che palpeggione capolavoro vero manga più bello che c'è non vedo l'ora di leggere anche questo numero fantastico ma ovviamente ci sono altre cose ma quella grande era di star no era di visual di books quella di star era formato tankobon l'altro tankobon in realtà credo come quella panini precedente però capite che la differenza tra il tankobon standard e questo e la differenza è questa e questa è una del formato tankobon quello un po' più piccolo questo è il formato quello un po' più grande capite che insomma la dimensione delle tavole non ne viene tanto tanto influenzata è alto praticamente uguale c'è tipo mezzo centimetro in più di altezza e un centimetro in più di larghezza no non comprare quella star compra questa quella di star è vecchia è senza sovracoperta c'è quella di panini vecchia che è brutta e che è attualmente in commercio perché l'hanno ristampata tutta però è in versione tankobon senza sovracoperta cioè è così probabilmente ribadisco che quando arriva faccio il confronto tanto la compro almeno il primo numero lo compro di sicuro poi vediamo si anch'io ho quella che però usciva anche normalmente in fumetteria usciva settimanalmente e poi l'hanno ristampata tutta compro il primo numero e faccio il confronto con la versione normale anche perché in teoria l'edizione questa qua dovrebbe avere alcuni disegni modificati un po' di cambiamenti per cui vediamo facciamo anche il confrontino però comunque non abbiamo finito ci sono altre cose bellissime come super uomo down of dc che presto finisce perché arriva all in la nuova rilancio del dc universe dopo un anno e mezzo tipo 18 mesi il vecchio shonen che nel guerriere è quello che mi piace meno vergognati e niente continuano le avventure di superman e superboy e l'ex lutor cosa accadrà in questo incredibile numero superman morirà ucciso dalla kriptonite forse si all in superman cappellone edemo ma no superman cappellone edemo immagino sia quello di di absolute di si che si va a collegare però non è che sostituisce in teoria non lo so non ho visto un cazzo però devo fare il video faccio il video no non lo voglio non lo voglio di più non lo voglio di fare video voglio smettere di fare il continent creator sono stanco ma passiamo alle cose veramente belle come il secondo numero di thunder 3 di cui tra l'altro mi hanno regalato questa cosa qua che in teoria era solo con la variant però me l'ha data lo stesso perché le hanno date tante credo o forse era con tutte e si è sbagliata non lo so comunque guardate che bello non ho ancora capito cosa ci dovrei fare con queste cose comunque molto belle era terribile la variant costava 10 euro per avere la roba in pvc ma siamo seri xeno siamo seri a parte che a me le varianti pvc fanno cagare in generale ma dovevo dargli 10 euro a panini per avere la variant in pvc venite più non lo voglio su 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 dai già sa serve fare le foto si l'idea è carina però a parte sul secondo numero che senso ha cioè così quelle variant così a me secondo me sono più rompigliose che belle cioè preferisco una bella immagine variant che la cosa pvc che c'è una sovracopertina su un tankobon di plastica quindi sicuramente si rovina o sta lì un po' a culo quando la metti in libro non lo so non mi fanno mai impazzire questo genere di robe poi per carità se a uno piace fa bene a comprarsela però il manga da solo questa 7 pagarlo tipo 9,90 per una cosa di pvc attorno boh però il primo numero era molto particolare e carino vediamo questo strano forte ci sono i mecca e i tizi cartoni animati e le armi boh poi sicuro vuoi vedere quella Roberto Newton lo so che la vuoi eccola tutta per te spider boy 4 scenario scenario da incubo ma no è anche un po' incollato è che non mi sono riuscito a trattenere scusatemi oh che bello super spider boy perché lui va perché non capisco scusami ma loro sono al fist insieme perché poi escono e lui si veste in costume boh vabbè cioè me la spiegate questa cosa ah no perché lui passa vita al bullying come spider boy wow ma non è un po' rischioso che lui vada in giro sempre con lei visto che lui è un supereroe boh non lo so poi abbiamo gli uomini volanti i vulturiani poi lui c'ha un incubo in cui ha i denti poi c'è miles credo che sarà un numero bellissimo e ha creato boy spider comunque ah ma quindi questo non è spider boy è boy spider wow che bello che cosa fantastica non vedo l'ora di leggerlo spider boy come dario moccia povero dario adesso con tutto il mio dissing ai creator famosi tra l'altro prima ho visto che c'era in live la nostra eroina tizia aveva più di mille persone che la guardavano e io non la sopporto lei proprio cioè non ho niente contro ma proprio e non ce la faccio mi sta proprio sul cazzo eh cosa quella che tocca il culo a Goku ehm minchia si chiama vogelita mi sta veramente mi sta proprio antipatica vogelita a pelle proprio ma proprio mi sta proprio cioè non riesco proprio a capire cioè io ne ho guardate tante di ragazze che fanno streaming simpatiche a me stanno anche spesso simpatiche le ragazze spesso preferisco guardare ragazze delle ragazze a livello di mi stanno lei proprio non mi sta simpatica ma proprio zero cioè non riesco a capire a capire sì questo può essere oxino però proprio a pelle non riesco a capire perché cazzo dovrei seguirla sarà che non amo molto le persone particolarmente sboccacciate però boh è vogelita è una tizia è famosa vogelita fa le robe però non ho mai capito perché cioè lei è la classica nerd 2.0 cioè io sono un sacco nerd infatti compro tutto il merchandise dell'attacco dei giganti ho una gigantografia di un personaggio di attacco dei giganti in casa e poi ho dietro la televisione ho delle mensole con delle cose nerd sopra e anche sotto sono delle cose nerd se ti incontro una fiera e esordisci con quell'antipatica della vogelita dico sì effettivamente mi stai proprio sul cazzo guarda che anche Beato dice tipo così sì però Bea parla di quello che legge e questa è la differenza cioè Bea ne sa parlare io non ho mai visto vogelita parlare di anime credo poi magari ne parla un sacco ma io ogni volta che vado sul suo canale ieri allora stamattina letteralmente ho acceso il canale oggi ho acceso il volume e ho sentito lei che leggeva la chat ah quindi dovrei succhiare il cazzo a risata non è vero crada non è vero non quasi tutte le ragazze fighe nerd sono così hai ragione devo smettere di parlare di fumetti parliamo dei miei bicipiti mentre leggo i fumetti come è pesante questo volume di black kiss guardate come è tornito il mio bicipiti hai ragione bisogna smetterla sbasta questi fumetti di merda potenza muscolare i fumetti comunque ho ancora dei fumetti di merda di cui parlare il fumetto che tutti volevate vedere i migliori del mondo tra l'altro ho trovato prima un numero dei migliori del mondo ah no non è i migliori del mondo è batman superman è quello più vecchio è quello precedente ho trovato il numero 17 non so perché e non so nemmeno se ho gli altri cioè l'ho trovato qua in mezzo così abbandonato boh del novembre 2021 era lì non so nemmeno se l'ho letto boh era lì cioè era qua dietro in mezzo ad altra roba lo metto qua sopra novembre 2021 dovrebbe essere nella lista però parla delle fiere le mostre i giochi collegati al brand dragon no parla vabbè parla degli anime parla di tutto vabbè a caverna gliene frega su veniamoci per il culo questo è un nuovo una nuova storia di batman cioè i migliori del mondo con enigmi fantasma boh vediamo molto molto classichi molto classici loro però chi è che disegna travis moore non è più se n'è andato coso dan mora torna che c'entra caverna e non lo so prima parlavate di caverna caverna strappa cose fra l'altro comunque abbiamo anche il tanto il tanto oh deadpool variant molto bellina devo dire visivamente l'immagine non mi convince al 100% non mi piace molto la posizione dei due così uniti non mi fa impazzire però è figa comunque grazie anthony doc per il follow benvenuto in questo fantastico canale dove parliamo anche di fumetti ma anche di tante altre cose bellissime e che non riguardano strettamente il mondo dei fumetti quindi seguici quindi seguici comunque come farsi prendere per un cretino non mi interessa deadpool ma sta cover è spettacolare sì la cover è molto bellina però mi balisco non mi fa impazzire quanto sono attaccati cioè Logan come ha fatto a colpirlo se è praticamente sopra di lui non lo so e anche sta spada infilata dietro non mi da quando l'ho vista a livello di costruzione non mi ha fatto impazzire poi il disegno è figo l'idea è figa per cui funziona tra l'altro è allora è lucida la parte qua lucida però con un minimo di trama ed è invece più ruvidina tutta la parte dietro che come vedete non riflette bellina alla fine bellina strana questa scelta del giallo alla fine ci stava Anthony Doc Anthony Doc come ho già detto a molti di chi mi hanno fatto la stessa domanda sì cioè nel senso esistono i 5 volumi di panini che sono recuperabili però se preferite averla credo a un po' di euro in meno sì alla fine è tutto il fumetto il fumetto quello è per cui sì è un buon modo di recuperarsela preferisci la variant o la regola di questa ah va la variant se no compravo la regola come non ho comprato quella di Wolverine cioè Wolverine non mi piaceva proprio la variant quella dei giocattoli l'ho vista ho detto mi sembra che non c'è ancora ovviamente immagino Wolverine ma perché mi chiedi di fare l'accesso pancito panini di merda cos'era Wolverine numero 46 ma no c'è non l'ho vista e non mi piaceva proprio cioè non mi dice un cazzo a me sta variant eh Peppo quello che ha detto con la gazzetta esce The Voice in volume non mi ricordo quanti sono tipo una quindicina tipo bella questa ci sta comunque tornando a Deadpool ma sfufu questa è una stronzata è proprio l'idea questo è il classico commento da no The Voice fa schifo perché Ennis era molto è Ennis vero? sì Ennis era molto meglio The Preacher The Voice è una merda è troppo volgare The Voice è una serie estremamente divertente ed è proprio tipico di chi se la tira a dire questa cosa del non sprecate The Voice che schifo l'avessero messa davvero la Marvel Legends vabbè grazie comunque abbiamo questa nuova serie di Cody Ziegler e Rogge Antonio dedicata a Deadpool con un simbionte lupo che cazzo è sta merda sì svacca per carità però va anche presa per com'è ecco mollare The Voice dal primo volume non è folle però se vi è piaciuta la serie tv è molto meglio il fumetto no secondo me proprio no Travis Kidd la serie non è migliore per niente secondo me no no hai fatto bene a dirlo Antonio non me lo ricordo qua fa la mossa di quello di Censomen cioè si unisce a lui ma più che altro è nuovo questo lupo ha una figlia cane simbionte eh in che senso ha una figlia cane sono inquietato secondo me io non sono molto d'accordo però ci sono anch'io sono chiaramente io vedete fisicato con la barba pelato sono io è evidente si sono ispirati a me o no sono morto questa dovevano mettere di variant perché hanno messo questa variant brutta quando c'era questa variant io non lo so veramente vergogna panini panini vergogna eeeh eeeh in Deadpool volume 9 del 2022 ma è la serie vecchia ce l'ho questa qua non me la ricordo ok quindi bisogna assolutamente recuperare la serie brutta del 2009 eeeh tocca tocca recuperarla comunque abbiamo ancora un fumetto un fumetto bellissimo infatti ho recuperato il secondo volume di damn them all che dio li maledica di simon spurrier e charlie adlard e sophie dogson dogson charlie adlard di cui vi ricordo ho un preziosissimo sketch in cui negan dice potere pelato questo per dimostrare che i fumetti saldap se li compro anche oltre a riceverli in omaggio e suggerirveli non credo che il primo volume sia già in sconto di questo però non lo so dubito no per un motivo molto semplice questo è un fumetto l'hai spostato dalla casa della delle lettere al sacchetto no invece no questo l'ho comprato quando è uscito il primo no infatti non è ancora scontato prossimi sconti panini sconti salda e però beh sì i prossimi saranno in sconti tutto due probabilmente quindi il primo me l'hanno regalato e sketchato no sketchato sketch esterno però figo però no non è un questo ci sono i demoni sì è un po' noir ma è un noir un po' fantasy con i demoni che sono fuggiti dall'inferno è tutto un casino per cui ni ni alla fine consigliato perché è un gran bel fumettozzo e nulla abbiamo concluso devo farvi il recap posso non farlo che non c'ho voglia non lo so facciamo il recap facciamo il recap per tutti quelli che non erano ancora qua quando abbiamo iniziato questa fantastica live nel frattempo apro il twitch sull'altro pc che non l'ho fatto oggi credo che c'è Wesa potremmo guardare Wesa o Ariadni o Nakba o Max Sink che cazzo è o Schillemont che non so perché seguo gente che non ho idea letteralmente chi sia questa è una delle grandi domande della mia vita vabbè adesso vediamo comunque facciamo sto recap allora un po' di oh buo mangi recap manga sanda 3 con la sua fantastica copertina poi abbiamo blu lock 25 con il regalo che è sparito con il regalo il fumettino che salterà fuori poi abbiamo under ninja numero 11 jimbocio sister numero 2 anchor from another world numero come cazzo è il numero 6 la luna e l'acciaio 4 con only death 4 ah eccolo qua lo specialino di cioè la preview di unico a cabanes bodyguards e poi basta manga c'è ancora thunder tree con la sua fantastica cosa da metterci sopra con la bustina così non si rovina e va bene poi abbiamo i bonelli di questa settimana di randog bis tra i ghiacci numero 454 bis poi superman e i migliori del mondo e così abbiamo concluso anche con DC Comics altri fumetti americani abbiamo Dan DeMoll che Dio li maledica volume 2 conclusivo della serie appena visto e poi abbiamo Spider Boy 4 Wolverine 46 Deadpool 1 variant X-Force 47 ultimo numero della serie X-Men 34 X-Men Forever 3 e Avengers 11 che poi è il secondo numero di Avengers Twilight ma Panini ha deciso di farlo tutto insieme perché hanno delle tese di merda e basta abbiamo visto tutto eeeh che bello va bene a questo punto facciamo ride al miglior streamer di film horror sul Twitch ovvero Nakbo il Gons gran bell'uomo tra l'altro e quindi noi ci vediamo domani con un appassionante live in cui parleremo di quanto è bello vedere le cose non lo so vi farò vedere il mio la mia ranta di allenamento mi allenerò con voi e diventeremo tutti dei nerd palestrati così avremo più views e abbonamenti e non credo che questa cosa accadrà se no sleeping night sleeping live dal letto sleeping live dal letto si può fare sempre che bello il letto c'è il cavo troppo tirato aspetta sleeping live dal letto insieme alla tastiera di questo pc che non ci stava sulla schivania insieme alle cuffie ed altre cose sleeping live eeeh che bello con anche la colazione se volete c'è tutto compreso vedete insieme yeeeh un po' non ho molto a fuoco l'unica cosa ecco non si metterà mai a fuoco non mi piace va bene ciao a tutti la live è finita ciao a tutti ciao a tutti